Tante tante persone a questa manifestazione in cui Green Planner partecipa con il suo blogging per portare anche un po' di tutela dell'ambiente e aiutare a pulire il parco. Tante persone, nonostante il tempo, pronti per la partenza. Poi riesco a farti fare la presenza. Una vista d'occhio molto bella. Scusi, la staffetta quando fa...